Allora, davanti a noi abbiamo questo segnale che dice che tra 100 metri c'è una rotatoria e dobbiamo dare la precedenza. Facciamo tutto il giro della rotatoria. Quando si entra in una rotatoria bisogna mettere la freccia sinistra, marcia 2, bravissima, e fai tutto il giro. Arriva la macchina, chi è che ha precedenza? Io. Quindi ma dobbiamo accertarci che ci venga data, giusto? Complimenti. Usciamo qui e metti la freccia a destra. Complimenti. Adesso al prossimo incrocio andiamo a sinistra. Andiamo a sinistra, qua a sinistra. Ok, ti fermi un attimo a destra e ti dico che cosa hai sbagliato. Te sei accorta? Cosa? Ho messo la mano dentro. La mano dentro. Ma sai perché è vietato? Tutti ti dicono cosa sbagli, ma perché? Metti la mano dentro. Se capita un imprevisto e devi controsterzare a destra, guarda cosa succede. Si è bloccata e quindi non riesci a sterzare. Avendo la mano sopra invece, la metti qua. Se capita un imprevisto puoi subito girare. Chiaro? Chiaro. Brava per il resto.